Questo intervento è un intervento in cui presento un po' il pensiero di Simondon cercando di dare un taglio in un certo senso politico a quello che è un pensiero che si sviluppa invece prevalentemente intorno a due testi fondamentali che non sono dei testi politici, questo che è stato tradotto in italiano è una grande teoria generale dei sistemi, la chiamo io in realtà è una teoria dell'individuazione, cioè dei processi da cui si costituiscono individui di tipo fisico, biologico, individui anche intesi come persone, psicosociale e così via è una grande ontologia che comprende anche un'epistemologia non è un, almeno non si professa come un pensiero di tipo materialista ma direi che può essere inteso, comunque essere materialista in un certo senso l'altro testo di Simondon, sempre dello stesso anno, del 58, sono le sue due tese di dottorato che sostiene con la supervisione di Polit, questa, e di Kanghiem, questa qui questo è un testo, il testo per cui è diventato noto a partire da quell'anno perché viene pubblicato immediatamente, è un testo sul modo di esistenza degli oggetti tecnici di cui non esiste ancora una traduzione italiana esiste però, d'altra parte, volevo appunto approfittare per fare un po' di marketing di Simondoniano esiste una traduzione di una serie di saggi sulla tecnica uscita da poco per orto test edizioni allora, la tradotta, la tradotta a Roma Caridi, Stefano Caridi sì, è un lavoraggio tra due Simondon perché, diciamo, quello che caratterizza la sua scrittura è di, lo caratterizza l'utilizzo di paradigmi, terminologia che lui deriva da moltissimi ambiti della ricerca scientifica, di contemporanea e che trasforma i concetti di tipo filosofico quindi ha questo problema tipico dei nostri autori francesi di inventarsi dei termini ma anche, come dire, non spiegarli mai del tutto e quindi, come dire, poi traduto diventa un problema doppio allora, questo è un po' il piano che ho in mente oggi in realtà, mi scuso, le slide sono rimaste in giro ho tradotto le citazioni da dove viene l'idea di studiare Simondon? da dove viene l'interesse, insomma, che secondo me questo autore per noi può avere? allora, io ho tracciato una linea ideale quando ho cominciato a lavorare su Simondon da una prospettiva di tipo politico che va da una prima teorizzazione del campo politico come macchina e Hobbes a la teoria cibernetica di Wiener che, perché cosa hanno in comune? hanno in comune il tentativo di utilizzare i modelli scientifici derivati dalle scienze dure, le scienze naturali ed applicarli alla teoria politica cosa hanno in comune? il modello del, come dire, dell'orologio o della grande macchina automatica in Hobbes ha un riscontro nel modello che deriva dalla tecnologia della trasmissione Wiener per costruire la sua teoria dell'informazione perché entrambi, come dire, puntano a costruire una teoria politica definitiva che descriva i meccanismi di funzionamento del corpo politico in modo tale da rendere possibile un suo studio che consenta di produrre davvero la soluzione politica definitiva il modo in cui Hobbes elabora la sua teoria, potremmo dire, dello Stato anzi, con tutta la problematicità insomma, nell'uso di questo termine, in quel momento storico ha in qualche modo un riflesso nel sogno Wieneriano e entrambi adottano una concezione radicalmente determinista dei processi e entrambi pretendono di costruire una scienza, diciamo, neutrale sul modello della scienza naturale che descrive il corpo politico e che svegli la sua normatività anche se ovviamente nel caso di Hobbes, come nel caso di Wiener il corpo politico non è naturale, ma è artificiale ma questa artificialità è comunque legata all'idea di, come dire di sfruttare le leggi di natura per convertirle in una macchina artificiale che funzioni seguendo le leggi di natura secondo le esigenze dell'organizzazione politica umana quindi in qualche modo vede un legame tra la teorizzazione della sovranità assoluta in Hobbes e l'idea di tecnocrazia di potere tecnocratico in Wiener perché Wiener, perché si monda un parte proprio dal concetto di informazione il titolo di questo testo, appunto tradotto da Giovanni Carossini è l'indituazione alla luce delle nozioni di forma di informazione quindi è un titolo che esplicitamente fa riferimento a quelli che sono i due modelli teorici che si monda utilizza e intende superare della gestalt e della cibernetica introducendo quella che è un elemento fondamentale che è la variazione rispetto innanzitutto al determinismo che caratterizza secondo lui questi approcci si parla della prima cibernetica in questo caso e anche quindi una critica fondamentalmente all'automatismo non soltanto per quanto riguarda il corpo politico ma l'automatismo per quanto riguarda innanzitutto il funzionamento proprio degli oggetti tecnici delle macchine nel senso che secondo Simondo cercherò di spiegare questa idea dell'automatismo è una proiezione interamente antropomorfica in un certo senso che non corrisponde alla realtà del funzionamento degli oggetti tecnici e questo testo appunto sul modo di esistenza degli oggetti tecnici è esattamente un tentativo di studiare come gli oggetti tecnici effettivamente funzionano che non è quello dell'automazione e ovviamente questo tipo di analisi estende anche i processi sociali e a quello che lui chiama governo allora una definizione che Simondo dà del concetto di sistema che utilizza va secondo me specificata insomma il significato di questa cosa perché c'è un equivoco fondamentale nel concetto di sistema io non so se posso farla qua banalmente questa è una citazione che troviamo in una delle notte proprio in una nota una delle bellissime notte del testo in cui dice un sistema non può essere totalizzato non è una somma di elementi fin qui insomma basterebbe Aristotele ed è definito da la separazione relativa degli insiemi che contiene nell'attività relazionale dei processi di informazione cosa vuol dire? sono due attacchi diretti alla gestalt da una parte e alla cibernetica dall'altra perché fondamentalmente se per insieme noi intendiamo una cosa di questo tipo cioè degli elementi che sono all'interno di una cosa di un insieme per sistema noi tendiamo a concepire semplicemente un insieme in cui diversi elementi sono in stretta correlazione reciproca non si vede niente ma pazienza in stretta correlazione reciproca e quindi il fatto che distingue insomma un sistema da da un insieme è il fatto che per così dire quando un elemento subisce uno spostamento una mutazione questo influisce su tutti gli altri elementi che costituiscono il sistema in realtà il modo in cui concepisce il sistema Simondon è un altro perché gli elementi semplici semplicemente non esistono non esistono elementi semplici esistono elementi che sono a loro volta dei sistemi e questa ha un'implicazione importante perché questi sistemi sottosistemi potremmo chiamarli rispetto a questo sistema ovviamente ogni sistema è un sottosistema e così via hanno dei processi in corso al loro interno e quindi e questi processi non interagiscono direttamente sugli altri sottosistemi un esempio che mi invento io partendo da Simondon è quello dell'automobile dove ad esempio se noi prendiamo il motore le ruote la ruota di trasmissione prendiamo il serbatorio quello che accade dentro il serbatorio cioè il livello di benzina che c'è non influisce sul funzionamento del resto fino a che non si arriva una certa soglia al di sotto della quale non c'è più benzina e quindi il flusso omogeneo di energia di fonte energetica da questo sistema agli altri sistemi si interrompe cosa vuol dire? vuol dire che l'interazione tra i sistemi non è un'interazione immediata quello che accade all'interno del sistema influenza gli altri sottosistemi soltanto a condizione che vengano superate certe soglie altrimenti come dire c'è una sorta di indipendenza relativa di quello che accade all'interno del sistema cosa vuol dire? cosa implica questo? questo implica che le relazioni tra le varie parti del sistema non sono deterministiche sono come dire immediate c'è una relativa indipendenza dei sottosistemi tra loro e questo è ciò su cui lo costruisce l'idea di stabilità quindi vuol dire il sistema è stabile in un certo senso ma non è il senso di una forma stabile come intende la gesta alta ma è il senso di una metastabilità la chiamano lui perché questa stabilità è soggetta a come dire a una tensione tra le diverse parti che dipende dal fatto che i processi interni e i sottosistemi superino o non superino certe soglie cosa vuol dire che è una stabilità che è ricca di potenziali quindi quando parliamo di sistema nei termini di simono dovremmo pensare all'individuo e per individuo possiamo intendere l'oggetto fisico un sistema di tipo fisico-chimico un organismo un essere persona vivente della specie Homo sapiens con le sue relazioni sociali e così via a tutti i livelli lui usa più o meno un paradigma che corrisponde a questa idea qua cioè non c'è un individuo stabile non c'è un sistema stabile però l'esempio della macchina non è un po' fabbiante perché lì hai una mutazione quantitativa non qualitativa non è come quando cambia il gene di una persona che ha il tumore il gene no? si trasforma in realtà diciamo no no hai ragione hai ragione diciamo che gli oggetti tecnici hanno questa particolarità rispetto agli altri tipi di sistemi che è il fatto che sono costruiti in modo che gli aspetti qualitativi non influiscono sul loro funzionamento in modo da poter controllare gli aspetti quantitativi il che non vuol dire che su altre scale non ci siano aspetti di tipo qualitativo nel senso che voglio dire ad esempio noi possiamo ignorare completamente di tipo di relazioni chimiche che possono avvenire all'interno del strubatorio perché abbiamo costruito il sistema in modo tale che quelle non influenzino lo suo funzionamento non vuol dire che non ci siano quindi in realtà anche negli organismi sono aspetti quantitativi che si traducono in mutazioni di tipo qualitativo cioè non è la differenza fra quantità e qualità è una differenza come dire più epistemologica che ontologica perché sono proprio ad esempio prendiamo appunto un organismo come esempio il fatto che si accenna o si spenga un gene può dipendere dalla concentrazione di un certo tipo di sostanza nel milieu all'interno di cui quel gene si trova in quel momento lì è un aspetto quantitativo che determinerà una reazione un'attivazione che può durare le differenze che noi chiamiamo di tipo qualitativo l'idea è di mettere in crisi proprio questa distinzione tra quantitativo e qualitativo ok d'altra parte questo tipo di funzionamento è anche un funzionamento che mette in crisi l'idea che ci sia appunto un rapporto diretto immediato e deterministico tra quello che accade all'interno di una parte del sistema e quello che accade agli altri aspetti del sistema e altre parti che sono correlate perché le relazioni tra diverse parti non sono relazioni come dire sempre legate a pattern di tipo deterministico la sua idea viene dalla fisica quantistica secondo cui abbiamo un'interpretazione diciamo più vicina a Borg e Heisenberg in un certo senso della quantistica l'idea secondo cui l'indeterminazione è di tipo ontologico non è di tipo epistemologico epistemologico vabbè poi casomai ne parliamo di questa roba qua perché ovviamente è un problema cioè è un problema che si può interpretare di un certo tipo e questa cosa lui cerca di attribuirla a tutti i tipi di sistemi che studia allora questo vale anche per gli individui classificati come umani qui c'è una grande c'è bastante letteratura soprattutto in Francia e in Italia sul concetto di transindividuale questa idea di processi di individuazione psichica e collettiva contemporaneamente cos'è che è importante capire che quando parla di individuazione transindividuale da cui come dire si costituisce il processo di soggettivazione potremmo chiamarlo per capirci dell'individuo ne parla sempre come qualcosa che avviene una modalità potremmo dire stratificata nel senso che per comprendere appieno un processo di individuazione transindividuale bisogna tenere conto cioè il modo in cui l'individuo diventa una entità psichica relativamente separata dal contesto sociale a cui appartiene e lo diviene perché introietto nella normatività di tipo sociale questo tipo di operazione qua di processo è un processo che non avviene ovviamente separatamente da processi tipo fisico fisico-biologico e tecnico che anzi sono la precondizione perché possa venire questa roba qua cioè vuol dire tutt'altro che una come dire che una comprensione di tipo è una comprensione di tipo materialista in un certo senso quando il materialismo in questo caso è un materialismo dei processi e non delle sostanze è fortemente antisostanzialista ma l'idea è insomma non esiste un soggetto se non esiste prima un organismo per cominciarsi che non vuol dire che un organismo definire il fatto che esiste un organismo significa sia sufficiente perché esiste un soggetto nel senso che intendiamo noi come un tridomato quindi anche quando deve definire l'umano lui parla di relazioni legate alle soglie di differenzi di grandezza che interagiscono all'interno del sistema individuo-uomo nel senso che quel sistema che è uno di noi per così dire se vogliamo accordarci vagamente su cosa possa significare uno di noi è comunque l'esito di una serie di processi che vengono a vari livelli ma non solo è un sistema instabile anzi metastabile cioè capace di come dire è una stabilità ricca di potenziali di trasformazione di ulteriore individuazione dice lui che che funziona con queste dinamiche dinamiche che che lui definisce storiche lui parla di storicità però appunto chiarendo che è interessante vedere come lui si termine storicità l'espressione per indicare processi di individuazione a tutti i livelli cioè non è qualcosa che definisce la differenza antropologica non sono gli uomini che dicono la storia ma qualunque tipo di processo di individuazione a livello fisico a livello fisico chimico biologico eccetera eccetera è un processo che ha un margine di storicità mi suona un po' strano quello quando scrivi che Marx riduce il lavoro alla biologia perché lo scrivo io in realtà lo scrive lui ovviamente no no figurati non lo direi mai ma lui in realtà allora come storico della filosofia si mondò a parte che ho trovato recentemente una cosa che dice su Spinoza che è sensata ma normalmente lui non c'erdeca molto la sua lettura di Marx è legata a una certa interpretazione di manoscritti e lui si ferma un po' lì anche quando autorizza l'allenazione e parla contro Marx parlando di questa roba qua interpretata in un certo modo quindi anche quella di Freud voglio dire è problematica non è che tra l'altro voglio scrivere il libro nel 58 nel pieno della ridatura lacaniana stessa città stesso contesto di Freud e per lui che accusa Freud di biologismo ha un senso ovviamente molto limitato certo non ho chiaro questo è quello che dice lui ma non ci interessa tanto la sua interpretazione ma il modo come dire il fatto che quel tipo di interpretazione diciamo positivista nella sua tradizionalmente sarebbe sufficiente ok allora ci sono visto che tu hai scritto agency in inglese no? che immagino che non sia una parola che usa Simone Donne no lui che parola usa? perché agency in inglese significa un sacco di cose diverse lui non la usa lui parla di parziale indeterminazione dei processi e parla di di storicità quello più agency per tradurre per gli inglesi e per per far capire che come dire la sua teoria non è una teoria deterministica è una teoria che lascia lo spazio e l'idea di una attività da parte dei soggetti ma non perché sia ciò che di solito non lo intendono come un'attività che caratterizza gli uomini rispetto ad altri aspetti o processi naturali ma perché in realtà è interessica in tutti i processi che noi chiamiamo naturali sono processi naturali in realtà c'è una risposta secondo me meravigliosa che da Simone Ricœur durante un dibattito che segue la sua presentazione la sua iniziazione alla società di filosofia nel 60 lui presenta la sua filosofia a un certo punto gli interlocutori cominciano a fare delle domande Ricœur dice beh ma il suo discorso le mantiene conto che la natura è una parte del discorso la natura è parte del discorso Simone dice non ci siamo capiti il postulato del suo discorso appunto che la natura sia parte del discorso questa roba per me è assolutamente impensabile è discorso casomai che parte della natura come vogliamo dirla quindi secondo lui è antipostmoderno tutta questa roba allora io direi che è antipostmoderno ma è anche come dire lui cresce se vogliamo contestualizzarlo nella filosofia dell'epoca l'unalevo di Merleau-Ponty che tuttavia lotta in questo testo secondo me aspramente per tentare di liberarsi dalla fenomenologia anche se alcuni concetti risentono un po' di questo problema usa Canghieno di cui parlerà Tyler poi in seguito proprio per l'epistemologia francese come leva per liberarsene in qualche maniera rifiuta l'etichetta del materialismo perché il materialismo per lui è uno dei due poli come dire dei nemici tradizionali della filosofia della relazione ma perché per il materialismo lui intende un materialismo che attribuisce sostanzialità agli elementi una sostanzialità eterna agli atomi o quello che vuoi tu e dall'altra parte l'altro nemico è Aristotele per il riumofismo detto questo lo trovo molto come dire questa free agency appunto per me è il segno in realtà mi parla di storicità il fatto che la storicità sia uno strumento concettuale che gli serve per descrivere l'elemento di indeterminazione dei processi a tutti i livelli insomma non me lo rende utile per trasformarlo in qualcosa per usare etichette che ho rifiutato sto cercando di costruire un legame con Karen Barad una filosofa femminista fisica quantista che insegna negli Stati Uniti che quindi passa attraverso la French Theory Derrida-Foucault per formulare una serie di concetti che a mio parere sono molto vicini a questo tipo di operazione qua e lei è parte della NUM ci realizzano di questa Karen Barad proprio così con la Carpa Barad allora questo è un esempio ovviamente di oggetti tecnici alcuni di cui parla Simona alcuni di cui parlo che metto lì perché mi vengono bene per spiegare per spiegare questa è la mia interpretazione evidentemente il modo in cui lui concepisce in particolare la circolazione degli oggetti tecnici e la loro funzione all'interno dei sistemi sociali in relazione al processo di riproduzione o innovazione sociale che secondo me è un aspetto cruciale per capire la sua filosofia politica al di là del concetto di transindividuale che non come dire che non mi sembra abbastanza perché non restituisce la complessità del suo pensiero allora quando vi parlo degli oggetti tecnici vabbè fate ad esempio di vario tipo ovviamente rientra anche la scrittura in linea di principio tra gli oggetti tecnici e vediamo in che senso allora questo è un modo in cui ho cercato di visualizzare un po' l'idea che a lui del modo in cui l'oggetto dipende contemporaneamente da norme di tipo sociale da cui dipende in particolare il significato qui abbiamo un pesto come si chiama un quegli oggetti che servono per schiacciare gli cereali come pestello pestello scusate a volte è troppo semplice non viene il pestello che ha una forma anche di di uccello che può avere un significato simbolico possiamo più o meno anche immaginare ma che no ma il punto qual è che questa forma ha una ragione di tipo simbolico e al contempo ha una ragione di tipo biologico e tecnico perché consente una pugnatura di un certo tipo quindi ha una norma come dire risponde a dimensioni di significato ma risponde anche a dimensioni di funzionamento cioè non può assumere qualunque forma questo oggetto perché un certo tecnico cosa vuol dire questo che dal punto di vista del simbolico teoricamente può assumere la forma di qualunque tipo di cultura può essere un cielo piuttosto che un serpente piuttosto che un orso piuttosto che un animale o qualcos'altro dal punto di vista del funzionamento però ha dei vincoli di tipo tecnico che sono legati al tipo di operazione per cui è stato costruito e d'altra parte ha dei vincoli di tipo biologico che sono legati al funzionamento di chi lo usa sia del corpo umano invece ha dei movimenti che qualcuno può fare perché possiede le mani che possono avere un certo grip sull'oggetto e così via e quindi è in qualche maniera un sistema che mostra come interagiscono normatività di tipo fisico di tipo biologico tecnico e di tipo culturale nel definire la sua forma finale la sua funzione che non è soltanto la funzione ma è anche il suo significato contemporaneamente gli oggetti tecnici che studia lui hanno contemporaneamente potremmo dire due ma in realtà da molti più livelli come dire c'è bisogno di sapere un bel po' di roba per spiegare cosa sono non basta la loro forma non basta il loro funzionamento non basta il loro significato e così via e quindi sono oggetti che sono tecno simbolici immediatamente hanno entrambe queste funzioni almeno per semplificare in realtà quello che è interessante è come notare come il significato sia legato a una storicità come dire la storicità del gruppo sociale e quindi una storicità di vita che può cambiare rapidamente mentre il significato come dire la funzione è legato alla storicità che è quella del corpo umano biologica e quindi è di lungo termine e non solo come vediamo la cosa più importante è a un grado di universalità superiore e questo grado superiore di universalità è cruciale allora ci sono altri oggetti che cominciano ad essere ancora più ovviamente complessi perché non soltanto dipende ad esempio la candela da norme di tipo fisico ma anche norme di tipo tecnico perché la candela comincia a funzionare adesso utilizzata rimane anche questa ovviamente un valore simbolico che può cambiare secondo il contesto sociale ma è un valore funzionale quando è in un contesto in cui esistono strumenti per accenderla quindi basta che c'è la candela ci vuole un contesto tecnico e c'è un'integrazione di nuovi elementi tecnici perché fanno sì che sia possibile l'esistenza di questo oggetto il fail vi fa un esempio che è un esempio che fa lui direttamente parla del modo in cui non soltanto nuovi elementi tecnici sono necessari perché questo oggetto funzioni ma a un certo punto può cambiare la sua funzione a seconda del sistema tecnico diventa a un certo punto un trasmettitore radio poi un trasmettitore televisivo nonostante non fosse costruito con quello scopo anzi inizialmente costruito per poi essere tolta alla fine dell'esposizione poi in realtà rimane lì perché si trova un'altra funzione quindi non è che ci sia come dire una storicità del significato simbolico contrapposta a una storicità della natura del contesto fisico del contesto tecnico non è così sono storicità diverse sono tempi di sviluppo diversi sono temporalità diverse che però si intrecciano e si influenzano reciprocamente la scrittura viene analizzata va analizzata in questi presupposti in una modalità analoga perché anche la scrittura ha una funzione che è legata a normi sociali evidentemente la differenza cruciale della scrittura è interessante come in questo senso Derrida e Simondo hanno lo stesso riferimento del Corcoran a un certo punto anche se poi Derrida prende un'altra direzione la cosa interessante di questo tipo di oggetto tecnico diriamolo così è che è molto più indipendente da norme di tipo fisico-tecnico anche se un po' lo è evidentemente bisogna avere un certo tipo di supporto un certo tipo di movimenti che siano compatibili con l'organismo umano e così via ed è invece fortemente dipendente da norme di tipo psicosociale quindi la scrittura è la produzione di segni che sono non è scrittura che è un oggetto tecnico sono i segni che sono l'oggetto tecnico perché sono l'oggetto tecnico perché sono un prodotto sociale che circola nei gruppi sociali ora mentre alcuni oggetti tecnici come quelli che abbiamo visto precedentemente tendono a fuoriuscire il limite del sistema sociale in cui sono stati i prodotti perché sono funzionali anche al di fuori di quelli la scrittura è un oggetto invece che tende a circolare all'interno di quel gruppo sociale ovviamente può offrire uscire ma come dire l'ostacolo è maggiore perché ci interessa questa roba qua perché Simodon tende a vedere nelle norme sociali delle norme che tendono a a riprodurre la struttura sociale nelle norme tecniche norme che tendono ad aprirla le norme sociali norme che tendono a chiuderla quelle tecniche tendono ad aprirla perché? proprio perché ci sono altri esempi che avevo l'alto della pioggia ad esempio che ha degli effetti può essere una tecnica di costruzione dell'identità sociale questo può avere degli effetti sociali anche degli effetti fisici nel senso che qui magari come dire c'è una produzione di endorfine che ti permette di realizzare pareggio l'ultimo minuto non so anche lui non è uno che entra alla fine quello che mi interessa è chi è che non lo riesco a vedere? è Ronaldo è Ronaldo che si fa il senso del concetto il modo in cui concepisce la cultura e qui definisce la cultura Simondon ed è una cosa che l'imprende a L'Auguram L'Auguram è questo paleantropologo francese che è ritenuto molto importante da Kanghien Kanghien è la persona che decide cosa quelle che vogliono fare filosofia in Francia devono leggere per almeno dieci anni e quando lui dice che bisogna leggere qualcosa leggono tutti quindi tutta la generazione di filosofi francesi che noi conosciamo hanno letto le cose che Kanghien diceva si dovevano leggere è il proprio ragion di questi è della scuola sociologica francese è un allievo di Mossa a un certo punto ma lui studia proprio gli oggetti che rimangono nelle caverne e cerca di capire non soltanto la loro funzione tecnica ma anche in qualche maniera di risalire alla struttura delle etnie dei gruppi sociali primitivi a partire da questa roba allora lui prende questa idea della cultura come una stratificazione di significati che in realtà è fatta di oggetti di oggetti tecnici di oggetti di segni oggetti linguistici e che ha una funzione rispetto al gruppo al sistema sociale è una funzione di autoregolazione cioè quella parte del sistema sociale che è fatta di cose prodotte di oggetti prodotti dagli uomini che sono parte di quel sistema sociale ovviamente sono prodotti in base a criteri complessi che abbiamo visto e potremmo dirla se vogliamo semplificare la cosa in realtà la cosa più complessa sono ciò che distingono davvero l'uomo dall'animale cioè il fatto che gli uomini escono pure degli oggetti che sopravvivono alla vita individuale e sono tramandati non in maniera diretta ma anche in maniera indiretta apprendo l'interpretazione apprendo la funzionalità in questo modo in realtà noi sappiamo oggi che ci sono culture animali ci sono dei primati le scimmie e i capuccini piuttosto che che hanno letteralmente una serie di pattern comportamentali che dipendono dalla loro biologia ma altri che sono appresi e sono tipici di gruppi diversi della stessa specie cioè noi abbiamo letteralmente gruppi della stessa geneticamente della stessa specie di scimmie che hanno comportamenti diversi usano diversamente alcuni oggetti in particolare e hanno pratiche di accudimento che sono state apprese e trasmesse allora va bene detto questo questo è il modo in cui concepisce il funzionamento della cultura e questo è ciò che gli permette di come dire ipotizzare a grandi linee una diversa funzione della normatività di tipo simbolico rispetto alla normatività di tipo tecnico questa membrana del gruppo sociale che è una membrana però sparsa anche l'interno del gruppo che circola all'interno del gruppo secondo Simondon tutta la produzione simbolica o se volete siccome un oggetto può essere tecnico o simbolico allo stesso tempo l'aspetto simbolico il funzionamento del simbolo è quello di riprodurre l'apparato valoriale normativo del sistema sociale mentre è la normatività di tipo tecnico che prevalentemente proprio perché è legata a un tipo diverso di storicità che è legata anche appunto ai processi di tipo naturale e quindi può circolare come dire anche l'esterno del gruppo e in qualche maniera costringe il funzionamento della riprodurzione sociale a un senso di un senso di realtà sul fatto che che questi oggetti funzionino e questo dipende ovviamente da come sono fatti e da come sono fatti il rapporto a la natura tecnica in questo senso qua questo tipo di l'introduzione di questo tipo di oggetti se vogliamo mentre c'è una resistenza da parte di un gruppo sociale ad assorbire la normatività simbolica di altri gruppi sociali c'è un'apertura maggiore da parte dei gruppi sociali ad assorbire normatività di tipo tecnico perché dice il ruagura vuol dire dal punto di vista etnico religioso forse dalle prime comunità cristiane ad oggi ma anche prima non abbiamo fatto grandi passi dal punto di vista tecnologico insomma è molto difficile pensare che volontariamente si decida di abbandonare l'aratro e tornare alla zappa questo è il ruagura il ruagura ci racconta il modo in cui la circolazione degli oggetti tecnici che hanno appunto questo legame privilegiato con il fuori dal gruppo con l'esterno delle pratiche simboliche di riproduzione sociale abbiano questa funzione quindi di mettere di sfidare il codice dei valori che è definito a livello etnico di gruppo sociale chiuso e Simone D'O riprende questa cosa e cerca di capire le modalità di funzionamento di questa contaminazione tecnologica che diventa immediatamente anche una contaminazione di tipo normativo valoriale questa è una situazione di ridurazione in cui lui rende esplicita questo discorso la normatità tecnica modifica il codice di valore di una società chiusa e pertanto ogni società chiusa che ammetta una nuova tecnica introduce valori inerenti a questa tecnica e per questo opera una nuova strutturazione del suo codice di valore cioè che non esistono comunità che non adoperino tecniche o che non ne introducono di nuove non esistono comunità assolutamente chiuse o inevolutive dove inevolutive non vuol dire cioè sta parlando proprio di evoluzione sta parlando di progresso cioè non ha in mente però per quanto riguarda la tecnologia se per il progresso definiamo la possibilità di di produrre un effetto con un minore dispendio di energia di risorse e in tempo inferiore se noi definiamo il progresso in questi termini per lui è in dubbio per loro è in dubbio che che si possa parlare di progresso limitato in questo senso qua poi sulle ragioni di questo progresso appunto è su un modo in cui il capitalismo intercette questo tipo di di processi lungo termine evidentemente ecco ci ne parlerà Andrea quindi non è un determinista tecnologico cioè non è che sostituisca la tecnologia come base no come struttura all'economia non è affatto questo però come dire i processi lungo termine che sono legati all'evoluzione tecnica sono l'elemento da considerare necessariamente secondo Simon per capire lo sviluppo proprio dei sistemi sociali ora interessante è come anche qui per togliere l'idea che ci sia una determinazione come dire strutturale se vogliamo porre la questione in termini di rapporto struttura individua questa è una cosa di solito che mi trovo a dover chiarire in Inghilterra perché sono terrorizzati dal fatto che appunto l'individuo perde la agency e non capita in realtà perché anzi l'individuo in Simondò ha una funzione necessaria fa un esempio che è molto bello anche molto poetico se vogliamo di una colonna di Cerenteratti in cui mostra la funzione dell'individuo proprio come mediatore ora per individuo ripeto Simondò intende qualunque struttura che sia risultato di una serie di processi e che per un momento si cristallizzi come dire rimanga metastabile e quindi acquisisca una funzione che però è una funzione come dire che ha un effetto all'interno di quel contesto sempre ci torniamo su questa cosa per spiegarla meglio allora questo è un esempio che fa lui di una colonna di Cerenteratti la colonna cresce si riproduce per non mi viene questa parola insomma si riproduce facendo sprighe sprighe facendo germogliando per germogliando un individuo in realtà sono tutti individui questi qua nel senso che hanno una parziale indipendenza nel senso che sono tutti uguali in un certo senso questo individuo che è un polipo si stacca dalla colonia diviene una medusa letteralmente si gira e diviene un individuo che trasporta il codice genetico di una colonia altrove seguendo la corrente e lasciando rilasciando un nuovo fertile da qui nasce un'altra colonia la cosa interessante è che l'individuo funziona alla transizione e c'è un elemento di storicità anche qua evidentemente perché la colonia il modo in cui come dire non c'è come dire mentre c'è un pattern che determina la il modo in cui si costituisce l'individuo dove vada a finire l'uovo fertile dove vada a finire l'individuo dipende dal contesto ambientale ed è soggetto a un insieme di fattori che sono che hanno un elemento di aleatorietà questo non vuol dire ovviamente che non esistono processi puramente deterministici e non esistono neanche processi puramente aleatori esistono processi in cui il grado di determinismo è limitato da margini di indeterminazione dice lui questo è ciò che dice anche parlando agli oggetti tecnici in questo caso ovviamente è stato un sistema di tipo biologico quindi non c'è un grande una grande quantità di storicità di aleatorietà nei sistemi sociali siccome c'è una stratificazione ulteriore di tipo tecnico e psicosociale il livello di storicità secondo Simone mondo è molto più ampio quindi diciamo mutatis mutandi uno potrebbe dire che l'antropocene è un livello di storicità per la natura? beh allora sì però senza pensare che la natura prima forse è storica no? perché appunto è l'accelerazione potremmo dire appunto se vogliamo stare in questo tipo sì certo l'antropocene forse è veramente il momento in cui l'indipendenza immaginata dei sistemi naturali è davvero insostenibile a questo punto in questo senso qua forse sì questo che sì che ci sia una natura prima di noi che in qualche modo l'uomo la parassite no? sì se ne è poco convincente in realtà su questa cosa no no il punto è che in realtà in un certo senso l'uomo è una è una formazione naturale che come tutte le formazioni naturali parassitano la natura se vogliamo mettere in questi termini il punto è la scala del parassitaggio che raggiunge i livelli che diventano se vogliamo prendere il macrosistema uomo natura ma in realtà appunto è una distinzione che è un po' torbitaria dico male se dico che anche l'uomo in realtà è parte di un processo di individuazione che lascia del non individuato assolutamente giusto è corretto quindi dire che c'è la natura è l'uomo come due sostanze ontologicamente separate per il secondo don non esiste deliria deliria sì sì no assolutamente è corretto sì assolutamente sì lui chiama che pre-individuale questa carica la colonia dice l'enterati lui la non mi ricordo se la usa come esempio di relazione trans-individuale lui la usa nella parte però mi sembra che dica che sia un esempio di relazione trans-individuale io la usa come modello quindi che non è umano il modello della trans-individualità ma in realtà è già biologica basta che ci sia questo trasporto di significati di sistema di valori di informazione in realtà ovviamente tutta questa roba è formulata formalizzata in termini di trasmissione di informazione e di costruzione e emergenza dell'informazione quindi lo sto traducendo in immagini che non vedono effettivamente però diventa incomprensibile nel senso che poi bisogna spendere tempo a interpretare l'interpretazione se la presentano nella terminologia sua è il problema di dover ricominciare ogni volta da capo quando si parla di simondono ed è il problema poi in realtà di quando si parla invece con i simondoniani come faremo a Parigi ancora diventano una cosa autoreferenziale in cui se si parla ancora di questo buff insomma allora ecco volevo far notare se ho un po' di tempo quanto tempo ancora? solo fino al senno sì quanto d'ora quanto d'ora se no vuoi dire ok ma questa è una delle definizioni che è dato dell'individuo come parolasse temporale l'individuo è ovviamente un aspetto che all'interno di un processo si isola costruisce una parziale isolamento di una parte del sistema del processo in corso in durazione di questa roba qua e acquisisce una funzione inedita all'interno del processo proprio perché innanzitutto può avere da innesco di un ulteriore processo all'interno del sistema ma anche tra sistema e sistema in questo caso l'esempio era di un individuo che esce dal sistema e produce e quindi è una categoria quella di individuo che ha una funzione nel suo discorso che è ontologico evidentemente ma ha anche una funzione di tipo epistemologico perché qui diventa molto interessante l'individuo ha anche una funzione nel processo di produzione della conoscenza allora qui questa parte magari ne parliamo molto brevemente quando lui deve definire la conoscenza e la conoscenza per così dire riflessiva lui usa anche questa espressione intendendo proprio la filosofia non solo ma il modo in cui come dire la conoscenza non sia soltanto la costituzione del soggetto e dell'oggetto che è la conoscenza scientifica sul modello bachelardiano è un processo però su cui si definiscono il soggetto della scienza e l'oggetto della scienza ma lui chiarisce ripetutamente tenta di pensare ripetutamente che questo tipo di conoscenza che è un processo ontogenetico in cui si costituiscono quel tipo di operazione che è la riflessione sul soggetto è la riflessione sul soggetto è ciò che andiamo a cercare di capire perché soggetto oggetto sono un prodotto dei processi che vogliamo studiare allora come funziona questa cosa evidentemente allora lui riprende secondo me un'operazione che fa Cargillen riguardo le scienze della vita in cui considera lo studio della scienza della vita un'operazione tipo riflessivo perché perché è l'organismo nella sua forma Homo sapiens che costituisce collettivamente quel sapere su se stesso non soltanto su se stesso ma su una natura di cui fa parte espressiva in questo senso qua cioè il soggetto conosce anche se stesso come prodotto di processo che l'ha costituito e questa cosa lui la stende la materia in un certo senso cioè l'analisi dei processi di individuazione di ontogenesi in Simondon ha sempre al di là della descrizione scientifica di questi processi una sorta di surplus di operazione che è la riflessione su quei processi per costruire una forma di conoscenza che non è semplicemente la raccolta dei dati fuori della scienza ma è un'operazione di costruzione concettuale che ci permetta di cogliere la scienza stessa come parte di un processo naturale per dirla così sembra quasi intrascendentale allora sempre accade un trascendentale salvo che questo trascendentale se vogliamo dirlo in termini dell'equistemologia francese è storico e quindi non è mai finito è un'operazione sempre clinica quella di ricostruire il trascendentale perché ogni volta che lo si ricostruisce lo si costruisce a partire da processi che sono nel frattempo cambiati e infatti lui dice chiaramente che forse è proprio dovuto a questa cosa il fatto che l'ontogenesi non è mai finita cioè lo studio dell'ontogenesi è sempre lì a fianco della ricerca scientifica e non è mai non arriva mai a un punto finale perché il trascendentale inteso nel senso kantiano nel senso anche fenomenologico è una pura immaginazione ma come operazione se vogliamo usare quel termine ci sta io ti faccio questa domanda perché ultimamente avevo visto Steven Pinker che parlava del suo libro Steven Pinker è un neuroscienziato che ha scritto questo libro che si chiama Blank State che parla della coscienza o della natura romana lui sostiene che non è vero che la natura romana è un blank state ma che diciamo riparte dall'esempio di senso comune cioè dal fatto che per esempio c'è il linguaggio e quindi le persone le possono comunicare anche se vivono in posti diversi quindi sulla scorta di questo talk che avevo visto mi chiedevo rispetto alla riflessione sulla natura umana in Simondon se il trascendentale è sempre qualcosa che è immanente o comunque storico in che modo come dire si dà questa trasformazione il fatto che è l'individuo che trasforma il suo ambiente non so se forse è reciproco nel senso che appunto non mi rendo conto che l'uso del time agency possa poi far pensare che ci sia il punto che l'agency si è diffusa quindi in realtà non è poi che l'individuo sformi l'ambiente è l'individuo ovviamente sull'ambiente tanto quanto la cosa reciproca si no c'è un problema di traduzione vabbè questo vado verso la fine così poi dico qual è la quella è la mia idea cosa ho estratto da Simondon rispetto all'idea di questo rapporto tra pedagogia filosofia e la sua ontologia questo può essere dei problemi epistemologici ovviamente enormi c'è la questione del rapporto fra scienza naturale e umane e l'idea di tecno-scienza come la rielabora in questo senso per dire un po' i soldoni generalmente secondo me come dire la scienza la tecno-scienza si chiamiamo tecno-scienza la scienza quella che chiamiamo scienza che in realtà appunto è così evitiamo tutte queste storie dal carteggio contro il bacone se ci sono state qua ok allora bisogna dire che nel contesto sociale se la scienza e le matematiche sono un prodotto culturale che non vuol dire che non funzionino in un certo senso è proprio la tecnologia la costruzione degli strumenti sperimentali che determina la carattere aperto della scienza mentre tendenzialmente l'aspetto formalizzato ne determina riproduzione proprio in linea con l'idea perché le matematiche sono una costruzione simbolica e il che non vuol dire che non si possono inventare continuamente nuove matematiche come accade evidentemente ma come dice c'è un aspetto che non è riducibile alla tecnologia nella funzione della costruzione teorica scientifica ma c'è un'interazione conflittuale tra i due che secondo Simon Don dal punto di vista di Simon No è legato proprio alla specificità della tecnica e della sua funzione a definire i processi di produzione simbolica di produzione come dire la tecnica è è quell'aspetto che da che costringe la teoria a fare i conti come la realtà so che sono tutti i termini problematici cosa che in un certo senso non è presente in altri aspetti della costruzione teorica scientifica va bene noi parliamo a questo momento l'ho lasciato un po' non so perché volevo concludere allora ovviamente il capitalismo entra in queste storie in Simon Don non molto appunto perché perché la sua collocazione in quel contesto negli anni 50 è molto particolare lui è strano lui è normale anche lui come tutti gli altri ma ma non si confronta davvero direttamente insomma con con il marxismo non non pone davvero non si può avere un problema e questo lo fa cioè a volte ne parla ma lo fa in maniera non si pone assolutamente il problema del rapporto con il strutturalismo che tra l'altro comunque è ancora emergente come moda nel 58 perché fino alla passe sauvage non diventa insomma proprio però il giorno che la casta faccia i suoi seminari già ma insomma non è una cosa così quello che è interessante è vedere come lui cerchi una posizione intermedia tra quella che percepisce come una sorta di reazione cieca all'avviluppo tecnologico da parte di Elul da parte di alcuni dei pensatori della teca dell'epoca e anche dall'altra parte però come un'alternativa all'operazione degeriana che può essere letta in modi molto diversi in realtà forse l'operazione degeriana non è neanche tecnofobica ma diciamo che spinge per una restaurazione di una tecnicità alla all'altezza della dimensione umana intesa in maniera molto diversa da quella di Simondon e quello che è interessante di Simondon è che lui propone questa idea di fin dall'inizio anni 50 lui anche quando insegna insegna filosofia e costituisce questi laboratori di ricerca con tutti questi strumenti tecnici ci porta i suoi studenti all'idealizzazione alla mentalità tecnica perché secondo lui nel funzionamento degli oggetti tecnici c'è una implicità un'adesione a valori di tipo costruttivo e funzionale che possono essere universalizzati al contrario dei valori invece legati all'appartenenza identitaria a un gruppo e così via allora quindi la tecnica come legame sociale sì allora la cosa interessante è che ovviamente questo è anche un grande progetto positivista se vogliamo per certi versi sì però la cosa interessante di Simondon è che la tecnica ha sempre a che fare con una pratica che non può essere pienamente istituzionalizzata non può esserlo mai non può essere proprio perché l'istituzione ha una come dire una tendenza normativa che è esattamente l'opposto di quella della tecnica che è quella di riprodurre mentre la tecnica ha quello di come dire mettere in questione lavorare intorno ad oggetto tecnico qua Simondon significa forse il problema come dire non c'è mai forse il problema di come farlo funzionare ma anche forse il problema soprattutto di cosa ce ne possiamo fare di trovare un funzionamento alternativo per qualcosa che può essere obsoleto può essere utilizzato in una maniera diversa o può comunque essere integrato in un altro modo a nuovi fini che nascono allora la cosa interessante è che in un certo senso la tecnica catturata all'interno di una normatività sociale stabilita identitaria finisce effettivamente per diventare un potentissimo strumento di riproduzione sociale e questo è quello che secondo Simondon è la tecnocrazia quando diventa realizzata ma d'altra parte questa è una perversione della funzione della tecnica dal suo punto di vista e quindi è possibile secondo lui come dire un uso diverso della tecnica che abbia come dire che ne riveli la natura effettiva questo testo qua è un tentativo di dire ragazzi vi dico io che cosa è la tecnica che cos'è cosa sono gli oggetti tecnici come funzionano davvero non funzionano con quell'automazione che vi siete immaginati voi non c'è mai stata sta roba funzionano perché si rompono perché si spaccano perché ricevono informazioni dall'esterno hanno tendenza entropica e non esistono l'automazione non esiste esiste questa interazione continua tra gruppi umani oggetti tecnici e la natura gli oggetti fungono da mediatori circolano e costruiscono un altro aspetto se vogliamo della globalizzazione che non è quello che è legato alla performatività tipica ad esempio del funzionamento capitalista anche lì poi in realtà allora non c'è quello che devo sempre dire con Simono è lui non è in grado io lo dico sempre in questo modo lui si ha una fiducia naif nell'istituzione cioè la Repubblic ci sono guardate tutti i problemi lui è in questo senso è come dire è limitato nella possibilità di pensare davvero le applicazioni politiche alla sua posizione e soprattutto non si pone mai il problema di quale soggetto politico possa sviluppare questo tipo di processi che non siano puramente riproduttivi quale soggetto politico possa in qualche maniera rivitalizzare questa modalità di funzionamento tecnico non puramente riproduttivo eccetera eccetera cioè questi problemi non si riprende proprio a un certo punto parla anche del PAP del comunismo e lui è un po' schiavo effettivamente questa cosa non bisogna dirlo perché se no la gente poi non lo legge più però però no poi bisogna anche chiarire che durante gli anni sessanta lui a un certo punto come dire verso fine nel sessanta non è neanche più molto presente a se stesso comincia ad avere problemi psichiatrici la cosa simpatica è che lui a un certo punto quando lui racconta la storia del del concetto di individuazione anche in altri luoghi cerca di di dare una lettura dell'emerge della filosofia nella Ionia da parte di che è molto particolare perché come dire sembra veramente prendere Heidegger e dire boh la filosofia nasce non tanto perché come dire è legale allora diciamo che di fronte al fatto che Heidegger valorizzi la tecne come poesie lui fa un'operazione inversa dicendo i primi filosofi quelli che sono davvero filosofi e che costituiscono quella cosa che quella tradizione all'interno di cui noi siamo ancora oggi sono allo stesso tempo dei tecnici e che lavorano con la physis nel senso che proprio ci lavorano e quindi nella filosofia nella loro filosofia entrano questi schemi di funzionamento che sono vabbè nei suoi termini potrebbe dire cosmopoliti che aprono la comunità e che in qualche maniera sono disinnescati da parmenide e sono disinnescati da una certa come dire un tentativo di potremmo dire dal suo punto di vista idealista di ridurre questi schemi di pensiero che non sono dei concetti sono proprio delle operazioni concettuali sono proprio delle operazioni critiche rispetto ai limiti normativi e culturali della società in cui si sviluppano e lo solo perché questa gente ha in mente delle cose che funzionano anche al di fuori della loro etnia della loro comunità del loro contesto sociale che sono di principi universalizzabili come la normatività tecnica e la filosofia è nella sua essenza più profonda secondo Simondo una tecnica e politica nel senso che è una come dire è una tradizione quindi è un aspetto simbolico ma è una tradizione che veicola schemi di funzionamento tecnico che quindi permette di integrare all'interno della cultura che poi noi possiamo chiamarla cultura occidentale se volete ma l'interno di questa tradizione qualcosa che dal suo interno continua a rimetterla in questione e la cosa interessante è che la soluzione non è fatta di contenuti in questo senso è fatta di operazioni che vengono svolte all'interno di un sistema simbolico contro ogni tentativo di fossilizzare di come dire di rendere statico quel sistema simbolico stesso è una cosa che lui suggerisce è una cosa che lui dice in maniera suggestiva a volte è una cosa che lui non sviluppa ma è una cosa come dire che diventa interessante se noi concepiamo la filosofia come qualcosa che nasce in un contesto storico determinato in un momento determinato ma lungo il processo di lungo termine di una storia naturale in cui la tecnica gioca un ruolo determinante nel processo di immunizzazione e quindi pone un problema ovviamente se vogliamo di periodizzazione di legame tra la filosofia e ciò che veniva prima e lui tenta come dire una strada alternativa a quella del rapporto tra la filosofia e il mito tra il lavoro e il mito insomma per così dire non ha nessun come dire è una cosa che non ha un fondamento storico evidentemente ma è un suggerimento che nel suo sistema mi sembra può essere interessante non tanto perché possiamo trovare la dimostrazione che questa cosa funzioni direi ma perché perché ci può suggerire di guardare da un'altra parte quando parliamo della filosofia per quanto riguarda l'aspetto se volete per il politico lui definisce appunto la filosofia questi termini questo tipo di comprensione del rapporto tra la filosofia e la tecnica è una cosa che per lui apre la possibilità di un'educazione tecnica che avra un pensiero critico all'interno della tendenza a costruire una fungazione sociale e evinere il suo nemico perché Wiener quanto Hobbes in questo senso è colui che ha concepito la politica come un'operazione di fondazione tecnocratica di qualcosa che come dire una volta deciso funzionerà per sempre così mentre Simone D'O ciò che definisce la politica è esattamente questa impossibilità ma non impossibilità questa funzione interna a sistemi sociali che tendono a riprodursi nel produrre continuamente decisioni parzialmente infondate parzialmente elettoriche che hanno una funzione sperimentale politica è tecnica in questo senso qua è nel senso di sperimentazione e non è tecnica nel senso di approvazione esattamente all'opposto di sperimentale di sperimentale